Eletti ieri sera dal Consiglio Comunale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 10 Sant'Antonio, la scelta è caduta su Oliva, Cristaldi e Carnelia, quest'ultimo indicato dal consigliere di minoranza Sapuppo, presenti tutti i rappresentanti in Consiglio. I tre nuovi revisori dei conti saranno già a lavoro nei prossimi giorni. Dura la reazione del consigliere Valentina Pappalardo? Anche questa volta la maggioranza ha trovato un artificio per prendere tutto, compresa la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti. La Pappalardo si riferisce all'emendamento presentato dal consigliere di maggioranza Licciardello, dove si indicava la scelta di far nominare il presidente dal Collegio dei Revisori. Una soluzione nuova, visto che per prassi il revisore più votato è stato sempre nominato presidente. Un meccanismo a tutela della minoranza. Con questo emendamento, invece, il presidente sarà sicuramente espressione della maggioranza, visto che a sceglierlo saranno i tre revisori, due dei quali, appunto, espressioni della maggioranza. Ma per il consigliere Rocca si è andato incontro all'opposizione, che non riusciva a trovare una data della prossima settimana per essere integra. Tutto il resto è sterile sofismo che non giova alla cittadinanza.